Allo stacco c'è lotta per il comando all'interno, il Gorgasolo in mezzo, l'Homming Club all'esterno, che è il tentativo di Nijambo, si ritrae il Gorgasolo, quindi l'Homming Club che lo sopravvanza, Nijambo che si insedia al comando. Subito per l'Homming Club, l'errore improvviso di Nijambo, lascia in testa l'Homming Club, ora all'esterno c'è l'Homming Club, con 29.4 di flessione, l'Homming Club che preme nei confronti di l'Homming Club e passa. Quindi ora si fa vedere Goldinger per linea 7 in terza ruota, perché sconta l'anticipo da parte di Matrix Sirian, e così ora Goldinger che è al fianco di Lovely Starlight, 44.4 il passaggio ai 600 di gara, con sempre al comando Lovely Starlight, in schiena l'Homming Club all'esterno, ancora Goldinger che si trascina Matrix Sirian, alla corda ancora il Morte di Gorgasolo. Si arriva così al chilometro con la pressione esterna da parte di Goldinger, 1.15.3 il passaggio al chilometro con Goldinger che tende a passare. Quando si va adesso ad affrontare la piegata conclusiva, Goldinger al comando, Matrix Sirian che ha ora il suo inseguimento, ci indietro ha spostato dalla corda, perché è il numero 2 di Los Angeles, si va così al completamento della piegata, all'inché in diritto è d'arrivo con Goldinger al comando nei confronti di Matrix Sirian, poi si trova anche Los Angeles. Nel finale all'esterno di tutti si ingamba velocemente Migen che va all'attacco di Goldinger ed è Migen che spunta e viene a concludere nei confronti di Goldinger. 1.58.7 per Migen e Alessandro Marucci, training in Glocko Cigognani, coloni della scuderia Olge, 17.13, la quota al totalizzatore. Con spunto imperioso al centro della pista è venuto ad avere la meglio su Goldinger che aveva demolito la resistenza di Lovelesson Light. Andiamo a rivedere le immagini con il tentativo per linee esterne di Matrix Sirian, poi quello di Los Angeles ma il più vehemente è quello di Migen che nel finale viene a sopravanzare tutti. E a concludere al primo posto con il numero 8, numero 10, Goldinger per il secondo, per il terzo vicinissimo ed difficilmente segnalabile Matrix Sirian con il 6, Los Angeles con il 2. Ci vorrà il risponso della fotografia. Il tempo dal chilometro al vincitore 1.14.1 per Migen e Alessandro Marucci. Grazie.